Il Consiglio regionale ha approvato il bilancio consolidato della Regione Toscana per l'anno 2022 con 19 voti favorevoli di PD e Italia Viva e 11 contrari di Fratelli d'Italia, Lega e Movimento 5 Stelle. Nel bilancio si è registrato un risultato economico di 26 milioni 732 mila euro. La maggior parte degli enti ha chiuso l'anno inutile, ad eccezione di Fidi Toscana, con un deficit di 1.544.000 euro, il Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche in negativo per 234 mila euro e l'autorità portuale regionale, i cui dati non sono stati trasmessi in tempo per il bilancio consolidato. Il risultato di esercizio 2022 è stato migliore rispetto all'anno precedente, con un aumento di oltre 57 milioni di euro, tornando a valori positivi e quindi permettendo un miglioramento della situazione patrimoniale. Consolidato ci parla di una situazione finanziaria ed economica della Regione Toscana e di tutti gli enti in qualche modo controllati, partecipati, delle società in house, di questa galassia complessiva capo all'ente regione, è un bilancio positivo. Il risultato economico del 2022 ci dice che rispetto all'anno precedente si è migliorato di circa 57 milioni, quindi un miglioramento significativo che ovviamente deriva anche e soprattutto dal bilancio della della capofila che è l'ente regione toscana. Ci parla il bilancio del fatto che la galassia delle società controllate, partecipate e degli enti che fanno capo alla Regione hanno bilanci in ordine, sono bilanci positivi, situazioni patrimoniali attivi e quindi questo ci conforta anche sul fatto che le risultanze dimostrano come anche in anni difficili, nonostante l'invarianza della pressione tributaria, i risultati economici ci dicono anche di un tessuto economico, di un'economia che nel 2022 è andata bene. Altro elemento che testimonia questo è il fatto che il gettito dai tributi regionali sono in indeciso aumento e qui sta anche un'attività forte che la Regione ha avviato di recupero anche dell'evasione fiscale. Quindi un sì motivato, giustificato da numeri e dati che ci parlano di un bilancio allargato della Regione che è sotto controllo. Sì, il bilancio è consolidato e raggruppa la Regione e gli enti partecipati sostanzialmente al 100% o in house, presenta dati in chiaro scuro. C'è un risultato formalmente positivo ma c'è un patrimonio netto, cioè la sostanza vera dell'aggruppamento negativo per circa 800 milioni. In questo noi abbiamo posto l'accento soprattutto su alcune società partecipate, vedi l'operazione di Fidi Toscana con la dismissione del capitale sociale, vedi il concordato preventivo che è stato omologato dal Tribunale di Pistoia per le termine di Montecatini di cui la Regione è socia al 70% e che hanno un debito consolidato di oltre 47 milioni. Vedi Firenze e Fiera ed altre che come Commissione Controllo stiamo mettendo sotto i raggi X l'ultima in ordine di tempo alla fondazione del Museo Pecci a cui la Regione Toscana negli ultimi anni ha dato diversi milioni di euro perché la gestione complessiva segna un segno meno, negativo e questo naturalmente deve servire a tutti di stimolo per dare migliori servizi ai cittadini e alle imprese con costi minori. La votazione a maggioranza dove Italia Viva ha sostenuto l'operato dell'attività regionale nel corso del 2022, avevamo dimostrato che si poteva trovare un equilibrio di bilancio senza aumentare le tasse, ne è stata una battaglia politica che il sottoscritto ha portato avanti con forza in questi anni, serviva a non aumentare l'addizionale IRPEF, serviva a non aumentare il bollo ma serviva a dare dei servizi maggiori più efficienti in termini qualitativi e su questo siamo riusciti a trovare un equilibrio di bilancio senza incremento delle tasse, quindi un impegno politico che abbiamo mantenuto grazie anche al nostro essere molto attivi nell'ambito di questa maggioranza di governo. Il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha premiato il regista pontassievese Alessandro Sarti nella sala gonfalone di Palazzo del Pegaso. A Sarti è stata consegnata una targa per l'impegno nella promozione della storia toscana e la sua abilità nel rappresentare il passato e il presente attraverso il cinema. Uno dei suoi lavori più noti è stato un film su Leonardo da Vinci. Nel 2023 è uscito il suo nuovo film Che bella storia e la vita, che presenta un cast di attori noti, tra cui Sandra Milo, Sergio Forconi e una trama basata su eventi leali ambientata tra Firenze, il Chianti Fiorentino e la Val di Sieve. Arte, storia, cultura, tradizione, sostenibilità e per questo, per queste ragioni, per il suo amore per la Toscana, per la sua capacità di saper raccontare chi eravamo ma anche attualizzarlo al presente, a partire dal suo ultimo film su un grande toscano, uno dei più grandi, Leonardo da Vinci, abbiamo deciso oggi di conferire una targa, un riconoscimento ad Alessandro Sarti per il suo lavoro di regista e per il suo amore per la Toscana. Sono felicissimo di ricevere questo premio, un premio del Presidente del Consiglio regionale ma anche del Consiglio stesso e quindi, come dire, ha un valore assoluto per tutto quello che abbiamo fatto, che stiamo facendo. Ovviamente si virgolettano le radici e le origini di un lavoro per quella che c'è scritto sulla targa, per la settima arte, per il cinema, con un occhio di attenzione per questa regione straordinaria, la Toscana. È davvero una grande emozione, Alessandro Sarti è un concittadino della comunità che amministro e voglio dire, oltre che essere un amico da tanto tempo, quindi è veramente un onore, un piacere essere qui a consegnare questo riconoscimento, è un riconoscimento meritatissimo rispetto a un lavoro che lui appunto ha condotto in questi anni, che è proprio appunto ci ha aiutato a raccontare la Toscana, la storia e soprattutto, come dicevo prima, appunto a coinvolgere le comunità che lui ha reso protagoniste all'interno di una pellicola, e anzi di più di una pellicola, perché appunto Alessandro ha oramai da anni intrapreso questa strada. È stato celebrato anche la sua capacità di cogliere una sfida grandissima, che è quella del budget, perché appunto i film, il cinema è una impresa davvero importante riuscire a realizzare un film con budget basso, specialmente quando si parla di film in costume. Ecco, io non sono sorpresa perché appunto Alessandro è abituato e ci ha abituato ad alzare l'asticella, a porsi dei grandi obiettivi e a riuscire, nonostante le tante difficoltà, poi a raggiungere il traguardo che si è prefissato e anche in questa occasione, in più di un'occasione, in queste sue realizzazioni ci ha abituato a questo. Quindi davvero è un grande piacere, un grande onore e poi ovviamente la sua, come dire, poi sempre il suo pensiero a dedicare il frutto del lavoro a iniziative di beneficenza e di aiuto a chi è più in difficoltà. Quindi davvero un piacere, un onore essere qui. È così, Alessandro Sarti è un regista toscano che ha interpretato la storia e il genio toscano soprattutto nel film su Leonardo da Vinci, lo ha fatto con sagacia, con ironia, da toscano, con uno spirito veramente che ci rappresenta. Devo dire che noi, segnando questo premio, abbiamo voluto sottolineare però anche un aspetto della biografia di Alessandro Sarti che lo vede attivissimo nei confronti delle popolazioni del mondo che hanno più bisogno e si è dedicato in particolar modo a Cure Two Children e alle popolazioni del Sahrawi. Quindi il lavoro di un creativo, di un artista che però ha trovato spazio nel suo cuore e nella sua mente anche per tutti coloro che hanno bisogno di un'attenzione in più e questo gli fa onore. Quindi una grande festa oggi al Consiglio regionale festeggiando un profilo di un bel toscano che ci piace onorare e ringraziare per il suo lavoro. I sarti di un regista li ho insegnato parecchio io, perché insomma francamente di molti volte lui si metteva, invece di stare dietro la cunea di presa, si metteva davanti le prime cose. Io guarda davanti ci devo stare io, se tu devi stare dietro. E allora piano piano li ha imparato e devo dire che è diventato un ottimo regista. Ma è sicuramente un motivo di orgoglio, soddisfazione. Io ho ricevuto, quando Alessandro mi ha mandato l'invito, per me è stata una cosa veramente bella, sia per il rapporto personale e umano che abbiamo insieme, ma anche perché da un punto di vista anche della sua attività, perché in questi anni i lavori che lui ha fatto si vede veramente che vengono fatti con passione, con professionalità e anche con quello sguardo innamorato che lega un po' il territorio, le storie, i vari film. Quindi è una persona che ha dato molto attraverso il suo lavoro e continuerà a dare. Quindi io come sindaco spero che un giorno verrà fatto anche un lavoro a Reggello, legando le nostre eccellenze, penso a San Mezzano, Vallombrosa, L'Olio, quindi potrebbe essere un qualcosa che lega tutte queste eccellenze e chi non Alessandro Sarti può fare questo. Legare le cose a volte possono sembrare non vicine. Presentata in conferenza stampa al Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso, la tradizionale festa della castagna di Caprese Michelangelo nella Retino, che si terrà nei fine settimana del 14 e 15 e del 21 e 22 ottobre. Durante l'evento ci saranno stand gastronomici compiatti a base di marroni e bancarelle con prodotti tipici locali come miele, formaggio e birra agricola. Sono previsti inoltre laboratori per bambini e rievocazioni di antichi mestieri. Credo che questa festa sia tra quelle che trovano maggiore interesse da parte non solo degli aretini ma di Toscani e oltre, proprio perché si basa su una eccellenza che è la castagna. Dobbiamo essere concretamente utili per far sì che questo prodotto, che ha una sua straordinaria storicità, possa avere un futuro. La castagna è stato un elemento fondamentale per la cosiddetta economia della selva nel Medioevo. Non era soltanto un prodotto ma era un bene di commercio, un bene di scambio insieme con i cereali e questo ci permette di riflettere su quello che è stata in passato la Toscana. E non a caso Caprese viene da Capra, probabilmente c'era un villaggio di allevatori, di pastori ed ecco l'importanza della foresta, della castagna. La festa della castagna che è la 53esima edizione si svolgerà il 14 e 15 e 21 e 22 di ottobre prossimi, presso Caprese Michelangelo. Si sviluppa tutto intorno al borgo, piccolo borgo ed è un mercato pieno di stand che non sono solo gastronomici e che è importante ma sono anche dell'artigianato, prodotti del territorio. Chiaro la castagna è l'elemento essenziale, soprattutto il nostro marrone conosciuto come Annoredop per le sue qualità e quindi dalla tradizione culinaria che c'è nel nostro posto chi viene anche può assaggiare non da poco dei beni piatti che gli stand, i ristoranti e anche gli agriturismi ce ne abbiamo di belli potranno far degustare. Siamo oltre 120 diciamo coltivatori che lavorano per il prodotto, noi lavoriamo con fersi e spediamo diciamo in tutta Italia. Naturalmente per noi la festa della castagna è la promozione del nostro prodotto quindi naturalmente ci teniamo tantissimo a diciamo a migliorarla anno per anno. Sicuramente quest'anno abbiamo un risultato non da poco con le presenze nei stand di personale veramente altissimo quindi spero che in questi due weekend abbiamo un successo meraviglioso. Per il secondo weekend avremo il nostro fiore all'occhiello che il comitato donerà un'opera al comune di Caprese Michelangelo di cui insomma ne vado molto fiero grazie alla collaborazione di tutto il gruppo che siamo stati molto uniti. Infatti è la cosa che ci tengo a precisare che Caprese Michelangelo sì siamo 1300 abitanti però quei pochi che siamo siamo molto uniti e molto collaborativi e quindi questa cosa mi rende veramente orgoglioso. È un appuntamento tradizionale ma anche una bellissima festa e soprattutto è quello che celebra un'eccellenza della nostra montagna di Caprese in particolare. Attorno alla castagna e al marrone di Caprese come abbiamo ascoltato lavorano delle persone, lavorano tutto l'anno e questo è importante al di là dei quattro giorni di festa che porteranno tantissime persone ad apprezzare questo bellissimo paese della Toscana in Val Tiberina perché il prodotto locale in questo caso il marrone consente alle persone di poter abitare, di poter lavorare in queste realtà nelle cosiddette aree interne alle quali noi abbiamo rivolto anche una particolare attenzione con la legge custodi della montagna che voglio ricordare intende dare contributi fino a 6.000 euro per le nuove aziende che vengono create e 3.000 euro per quelle già esistenti che fanno un patto di comunità con l'amministrazione comunale ogni anno per 5 anni. Quindi proprio nell'ottica di dare un contributo a chi fa un lavoro importante anche di custodia e di presidio di un territorio perché la cooperativa, il comitato della castagna, le amministrazioni comunali fanno anche questo. Le persone che abitano, lavorano in montagna, che curano il bosco, che curano il paesaggio sono una ricchezza per tutti, anche quelli che abitano in città. E all'interno della programmazione della festa della castagna ci sembrava giusto e opportuno inserire anche un evento culturale che si terrà presso il Museo Casa Natale di Michelangelo Bunarroti che è il nostro fulcro, il centro della nostra comunità che sarà intitolato qui nacque il genio e vedrà come interventi quattro relatori che porteranno dei loro contributi su quello che è stata l'opera di Michelangelo dal punto di vista architettonico. Quindi è un evento che abbiamo voluto inserire in questo momento, che è un momento di festa, un momento che la comunità ovviamente è sì un momento in cui si lavora, però è anche un momento in cui si festeggia, quindi un evento fruibile per tutta la popolazione, anche se ha questo taglio culturale. Presentato a Palazzo del Pegaso, il Bando è la Toscana che fa bene, promosso dal Corecom in collaborazione con il Centro di Servizi Volontariato Toscano, che giunge quest'anno alla seconda edizione e che premia la miglior campagna di comunicazione sociale realizzata e lanciata nel 2022-2023. L'obiettivo è dare il giusto riconoscimento a quanti nella regione si impegnano e lavorano per veicolare messaggi di pubblica utilità. Al Bando possono partecipare soggetti giuridici, pubblici e privati, con sede legale in Toscana, che abbiano prodotto campagne di comunicazione sociale nel corso del 2022-2023. Sarà possibile presentare la domanda entro il 31 ottobre prossimo. Il premio per il vincitore è di 5.000 euro. La Toscana che fa bene è la seconda edizione di questa iniziativa che il Corecom ha promosso e aperta a tutti i soggetti associativi, istituzionali e anche soggetti privati a Toscana e è centrata proprio per far emergere le belle campagne di natura sociale che avvengono all'interno della Toscana. Già c'è stata una prima edizione dove ha vinto l'Unione Italiana Cecchi di Prato, il premio è di 5.000 euro e il bando è aperto fino al 31 ottobre a tutta la Toscana che fa bene, che in qualche modo si mette in gioco con passione, con cuore, con entusiasmo, dentro campagne di natura sociale perché uno dei nostri scopi è anche quello di far emergere e incentivare le buone pratiche di comunicazione sociale, di pubblica utilità in modo da spingere ulteriormente anche per i prossimi anni in questa direzione. L'iniziativa è in collaborazione con il CESVOT che ci aiuta anche a promuovere, a divulgare in tutte le realtà sociali della Toscana questa importante iniziativa. Sì, un premio importante che il Consiglio regionale promuove perché c'è un livello di massima attenzione e promozione in quella che è la comunicazione sociale, quindi una collaborazione che ovviamente si struttura con Corecom e CESVOT per cercare di veicolare una pubblicità di un bando che consentirà la premiazione di quella che verrà considerata la migliore comunicazione a livello sociale della nostra regione, quindi un atto importante che ha una valenza di carattere ovviamente istituzionale ma soprattutto sociale e divulgativa di valori che sono fondativi dell'essenza della regione toscana. Sì, noi sulla comunicazione sociale lavoriamo da tanto tempo, abbiamo un archivio di più di 3500 campagne di 68 paesi del mondo, quindi è a disposizione dei nostri enti e di chi vuole per poter attingere anche idee e certamente questa collaborazione con Corecom per poter fare questo bando e questa iniziativa per premiare una nuova campagna di comunicazione sociale ci interessa e quindi abbiamo aderito molto volentieri. Ma più che altro la comunicazione sociale serve al volontariato per lanciare delle campagne che non sono di marketing, perché noi non facciamo marketing, ma facciamo però marketing social nel senso di indurre comportamenti virtuosi nelle persone che possano da una parte dare valore alle persone, perché anche di prendere in mano appunto la questione, il valore infinito della persona e dell'ambiente in cui siamo, quindi diciamo le tematiche normalmente sono queste e sono quelle che ci interessano e interessano al nostro mondo, al mondo del volontariato che è sempre attivo su questi temi.